Un'altra notte violenta in centro storico e a farne le spese questa volta è stato un 21enne di Rocca Casale. Dalle primissime informazioni sembrerebbe che il giovane sia stato aggredito sabato notte intorno alle tre nepressi della villa comunale di Sulmona. Il 21enne avrebbe riportato 40 giorni di prognosi, non pochi, e una lesione alla mandibola. Attualmente ricoverato all'ospedale San Salvatore del capologo di Regione nel reparto Maximo Facciale. Non sarà facile per la squadra anticrimine del commissariato sulmonese di via Sallustio, che ha appena avviato le indagini, ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Gli inquirenti al momento parlano di aggressione e di un colpo al volto, un pugno. Il giovane avrebbe perso subito conoscenza, sarebbe stato soccorso da un gruppo di amici e poi si sarebbe risvegliato al nosocomio. Perché e da chi il ragazzo sia stato aggredito questo è ancora da accertare. I poliziotti pensano che possa trattarsi di una sola persona e non di un gruppo. Saranno le indagini a far luce su una vicenda che riaccende riflettori sulla sicurezza e sulla vivibilità in centro storico. L'ultimo episodio di violenza risale al mese scorso, quando ad essere aggredita per futili motivi fu una quarantenne del posto.